Musica Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse però vi anticipo già che questo non è un vero e proprio gameplay Infatti è un gameplay registrato in precedenza e quindi siamo in un post commentary per parlare di un argomento Secondo me molto importante Infatti in questo video vorrei cercare di fare un pochino chiarezza e di dare qualche risposta sul perché esistano queste due versioni differenti di Super Saiyan Però che non possono coesistere insieme Quindi direi che per seguire un filo logico possiamo partire da un punto che credo sia in comune Sia con la serie di GT che con la serie di Dragon Ball Super e quindi con la fine di Majin Bu Quindi partendo da questo punto in comune in Dragon Ball Z dopo la sconfitta di Majin Bu sappiamo una cosa E cioè che dopo la sconfitta appunto di Majin Bu ci sarà la nascita di UB Cioè la reincarnazione umana di Majin Bu E questa credo sia una cosa molto importante che però andremo a parlarne successivamente Che comunque credo sia in comune sia con l'arco narrativo di GT che con l'arco narrativo di Dragon Ball Super Infatti se ricordiamo bene la fine di Dragon Ball Z non finisce proprio con la battaglia finale contro Majin Bu Ma finisce con lo scontro al torneo mondiale fra Goku e UB Quindi ciò cosa vuol dire? Che comunque Dragon Ball Super non può essere posizionato proprio alla fine di Dragon Ball Z Ma possiamo posizionarlo nel mezzo fra la fine della saga di Majin Bu e la fine proprio di Dragon Ball Z Con questo scontro fra Goku e UB Ora dato che sappiamo benissimo che ci sono questi due archi narrativi Ovvero quello lì in cui nasce il Super Saiyan di quarto livello e quello lì in cui nasce il Super Saiyan God Ebbene premettere che io non credo comunque che si voglia cancellare il Super Saiyan di quarto livello Visto che comunque lo stanno riutilizzando moltissimo Cioè raga è ancora tuttora utilizzato anche dopo la nascita del Super Saiyan God Infatti stanno nascendo come vedete anche se ovviamente in dei giochi e non nella serie principale Stanno nascendo personaggi come Gohan Super Saiyan di quarto livello Trunks Super Saiyan di terzo livello E quindi credo che non si voglia comunque cancellare completamente quello fatto in Dragon Ball Z Infatti comunque sarebbe abbastanza strano da parte di Akira Toriyama tornare sui propri passi Dato che comunque la saga di Dragon Ball GT è un progetto che è stato supervisionato comunque da lui Ed è stato quindi approvato in pienissimo Quindi l'unica spiegazione a tutto ciò credo sia dovuta al parallelismo fra universi Infatti credo che esistano due universi paralleli Anzi ne esisteranno molti di più Però credo che esistano questi due universi paralleli In cui nel primo universo parallelo abbiamo l'arco narrativo di Dragon Ball GT E nel secondo universo parallelo abbiamo quello lì di Dragon Ball Super E come vi dicevo credo che la nascita di questi due differenti universi paralleli Si possa ricollegare al risveglio di Lord Beats Soffermandoci sull'arco narrativo di Dragon Ball GT Quindi possiamo presupporre che non ci sia stato il risveglio di Lord Beats E che quindi è inesistente anche la profezia del Super Saiyan God O meglio il sogno del Super Saiyan God Quindi a questo punto ci sarà la nascita di Pan e Hub Che comunque è una cosa in comune fra i due universi paralleli Non ci sarà la risurrezione di Freezer Che infatti come ricordate ritroviamo proprio con Cell nell'inferno E con l'inizio di Dragon Ball GT sappiamo che Goku diventa bambino A causa del desiderio espresso da Pilaf E questa potrebbe essere un'altra cosa che potrebbe dividere di nuovo questi due universi Quindi continuando ancora con Dragon Ball GT sappiamo tutti il resto dei fatti E quindi tutto questo ci porterà alla nascita del Super Saiyan di quarto livello Passando dunque all'arco narrativo di Dragon Ball Super cosa sappiamo? Che dopo la fine di Majin Buu ci sarà il risveglio di Lord Beats E quindi questo porterà sicuramente al sogno del Super Saiyan God E quindi alla nascita vera e propria del Super Saiyan God Successivamente nasceranno Pan e Hub Cosa in comune insieme all'arco narrativo di Dragon Ball GT Che però si differenzierà dal fatto che contemporaneamente quasi ci sarà la rinascita di Freezer E quindi ci sarà anche la nascita del Super Saiyan Blue E da qui per il momento noi non sappiamo null'altro L'unica cosa che possiamo presupporre è che comunque non ci sarà mai la nascita del Super Saiyan di quarto livello Visto che comunque sembra che il Super Saiyan Blue o il Super Saiyan God Sia uno stadio nettamente superiore al Super Saiyan di quarto livello Credo sia anche da escludere l'ipotesi che comunque Goku trasformato in Super Saiyan di quarto livello Sia già passato per il Super Saiyan God Solo che ovviamente durante la serie di Dragon Ball GT Non si sapevano ancora tutti questi fatti di Lord Beats Della nascita del Super Saiyan God e tutto questo Credo che comunque tutto questo sia da escludere Lo ripeto Poiché comunque Goku effettivamente ha raggiunto lo stadio del Super Saiyan God Super Saiyan Cioè si trasforma quando vuole ed anche Vegeta E come vi dicevo dovrebbero essere stati che sono molto superiori rispetto a quelli del Super Saiyan di quarto livello Ora non lo so Io non credo che dopo Dragon Ball Super ricollegheranno la storia per ricollegarsi appunto con Dragon Ball GT Ma credo che quindi questa teoria degli universi paralleli in cui in un universo parallelo non c'è il risveglio di Beats e in un altro universo parallelo c'è il risveglio di Beats Credo sia una cosa abbastanza possibile Ovviamente un altro dei fattori comunque scatenanti di questi due universi paralleli potrebbe essere il fatto che Pilaf esprime il desiderio per far diventare bambino Goku E quindi credo che in Dragon Ball GT ok è andata così come è andata ma credo che in Dragon Ball Super non ci sarà una cosa del genere Visto che comunque Pilaf è riuscito ad esprimere il suo desiderio anzi non l'è riuscito ad esprimere Però sono comunque riusciti ad esprimere i loro desideri e non era mai capitato nella serie Se non non mi sembra nella prima serie di Dragon Ball E quindi credo che Goku non possa diventare bambino dopo gli eventi di Dragon Ball Super E non possa quindi portare nemmeno a Super Saiyan di quarto livello Quindi ragazzi io la mia ve l'ho detta su questa questione Ovviamente vorrei sapere assolutamente cosa ne pensate su tutto ciò che vi ho appena parlato Facciamo un pochino di chiarezza vediamo un pochino come la pensate sul Super Saiyan di quarto livello e sul Super Saiyan God O il Super Saiyan God Super Saiyan E quindi ragazzi aspetto assolutamente dei vostri commentini e quindi vi do appuntamento ad un prossimo video